Questa è una sorta di pannello di controllo che Rold ha portato a SPS Italia. Quali sono le novità? Rold ha sviluppato e ha portato in SPS Italia Smartfab, la sua piattaforma per l'industria 4.0, che rappresenta il primo punto di accesso per la digitalizzazione delle nostre macchine in produzione. Quello che vediamo mostra i dati in tempo reale rispetto all'andamento delle nostre macchine, rispetto a disponibilità, prestazioni e qualità. Quindi possiamo dire che diventa un vero e proprio controllo, cruscotto della produzione, direttamente all'interno dello shop floor, a disposizione dei manager e degli operatori. Quali sono le opportunità in più che offre questo tipo di cruscotto elettronico rispetto alle situazioni tradizionali? La capacità di avere dati e informazioni in tempo reale, la possibilità di trasmettere questi dati direttamente al polso degli operatori attraverso questo smartwatch che mostra in tempo reale gli allarmi rilevati dalle macchine di produzione e questo consente l'immediatezza nella percezione di ciò che sta succedendo. Quindi le decisioni non vengono più prese alla fine del turno, a fine giornata, o peggio ancora, a fine di una settimana lavorativa, ma possono essere prese in tempo reale e quindi essere più reattivi, più efficienti e ottimizzare i processi dell'azienda.